Altro incontro con Giovanni Matera, devo dire noto imprenditore, lui è titolare di Matera Arredamenti, nonché è un grosso esperto a livello di marketing, autore di pubblicazioni di corsi formativi e quindi da un po' di puntate a questa parte stiamo dialogando con lui per cercare di comprendere come davvero il marketing è una ricchezza. Oggi possiamo parlare di un argomento che mi ha colpito particolarmente, nel suo libro La Cassetta degli attrezzi c'è un capitoletto, pensare da effetto o da causa, molte volte noi, come dire, leggo testualmente di fronte ad un problema possiamo fare due cose, scaricare la colpa sugli altri oppure chiederci dove abbiamo sbagliato, se incolpiamo gli altri non lo risolveremo e nemmeno andremo a reperire la conoscenza per migliorarci, se invece pensiamo in modo causativo ci sforzeremo di trovare le soluzioni adatte a risolvere il problema e anche a reperire la conoscenza per diventare sempre più bravi. Come dire, cercare di comprendere che tutto dipende, che noi siamo causa delle nostre scelte, dei nostri beni e dei nostri mali. Noi siamo la causa quando le cose vanno bene e quando le cose vanno male. L'importante è anche quando le cose vanno bene, dobbiamo capire cosa abbiamo fatto di buono, ma questo perché? Perché lo possiamo poi ripetere. Anche per far sì che le cose vadano meglio. Un altro concetto forte delle persone che hanno avuto successo è la ripetizione, cioè ripetere quell'azione che è stata fatta bene e quindi ripeterla. Questo è un elemento di successo dei leader di successo. Quindi noi di fronte a una problematica possiamo… due atteggiamenti possiamo avere. Quello di dare la colpa agli altri e questo è quello più diffuso. Scaricare. Di fronte a una problematica subito, ma ci viene proprio distinto dare subito la colpa agli altri. Mentre quello più giusto è anche quando pensiamo di avere ragioni al 100%, facciamoci sempre questa domanda. Dove abbiamo potuto sbagliare? Cosa potevamo fare che non abbiamo fatto? Magari una telefonatina poteva aiutarci? Faccio un esempio, l'altro giorno è successo che si sono presentati a una serata, dei commedianti dovevano tenere una commedia, sono arrivati lì e non hanno visto che non c'era tutta la scenografia, praticamente mancava. Chiaro, il titolare degli sceneggiatori ha detto, ma io giovedì avevo dato tutto, avevo dato la scheda, avevo dato tutto quello che serviva. Si era sollevato. E quindi io ero tranquillo di trovare tutto a posto, però sono andato lì, allora immaginate se questo, lo sceneggiatori faceva una telefonata la mattina, prima che il camion di chi doveva preparare il palco, che arrivava la telefonata e dice, senti ma hai caricato questo, questo e questo, non è che ti sei dimenticato. Beh loro la sera avrebbero svolto lo spettacolo in tutta tranquillità, cioè bastava una telefonata. Lo dico per esperienza diretta, mi è capitato qualche volta anche nell'organizzare delle trasmissioni di avere a che fare con persone che magari tra i tanti impegni, non per malafide, ma magari dimenticavano l'impegno preso, la puntata, l'intervista concordata e io, ecco, torno al discorso di Matera, molte volte la mattina precedente non ho avuto un voto di memoria e non li ho chiamati, avrei dovuto invece dire, senti ti ricordi che stasera devi venire? Capitava poi la sera che magari la persona tra i tanti impegni non si presentava e io magari inveivo. Certo la persona è stata scorretta nel non presentarsi, però una maggiore prudenza. Tra la domanda è cosa potevo fare? Da parte mia, io sono stato causa anche con causa di quell'assenza. Chiaramente questo concetto bisogna stare attento a non portare all'esasperazione se non diventa colpevolezza. E certo. Però ti può salvare alcune situazioni. La prudenza non è mai troppo. Grazie a tutti.